Giro di vite di calta acqua e sicilia acque contro gli allacci abusivi. Cinque quelli scoperti in questo fine settimana lungo la statale 115 nepressi del bivio perlicata. Si tratta di una condotta che serve anche parte della provincia nissene, in particolare la zona di Gelebutera, dove peraltro si trovano anche resort e altre strutture ricettive che in maniera particolare in questi giorni vedono naturalmente moltiplicare la loro esigenza di acqua. Il sistema di allacci abusivi, secondo la prima stima fatta subito dai tecnici di Sicilia Acqua, era in grado di sottrarre indebitamente e illecitamente qualcosa come 30-40 litri di acqua al secondo. Una quantità di per sé assai già ragguardevole che diventa una manca ancora più pesante se si considera che questa illecita captazione crea inevitabilmente ripercussioni negative sull'intera utenza, deprimendo la pressione in acquedotto, sfavorendo soprattutto le zone più alte. Una penalizzazione doppia per gli utenti irregolari ai quali non si riesce ad assicurare il giusto rifornimento idrico. Il via all'ultima capillarazione di monitoraggio è scattato dopo che a causa delle notevoli perdite registrate lungo l'acquedotto Gera Licata, che è utilizzata in questa stagione esclusivamente per approvvigionare le utenze della zona di Manfrate, Nutella, De Susino, Falconare, zona marittima di Licata, Sicilia Acqua, provveduta a isolare la zona maggiormente sotto osservazione, installando delle saracinesche di linea e alimentando Manfrate, Nutella e De Susino con l'acqua potabilizzata a Gela. Falconare e Licata invece sono state alimentate con l'acqua del Fanaco. Il campanello d'allarme nella fattispecie è stato la segnalazione di una fuoriuscita di acqua sulla strada statale 115 nei pressi del bivio di Licata. Dopo sei ore di utilizzo delle pompe è stato possibile effettuare lo scavo che ha portato alla sorprendente e sconcertante scoperta di ben 5 impianti abusivi per il prelievo illecito di acqua dalla condotta principale. Uno di questi 5 allacci abusivi aveva ceduto provocando la fuoriuscita di circa 30 litri di acqua al secondo. Completato l'intervento, tutte le uscite irregolari sono state cecate e ripristinata alla regolare fornitura idrica alle zone turistiche e a quella di Falconara in particolare. Sulla vicenda Sicileacqua è immediatamente presentato formale denuncia alle forze dell'ordine perché possano, ad indagini concluse, individuare i responsabili di questi allacci abusivi. Impianti che, come più volte sottolineato, oltre ad arrecare un considerevole danno al gestore del servizio idrico in termini di risorse sottratte di canoni non corrisposti, danneggiano soprattutto le utenze irregolari che inevitabilmente vedono gravare sulle loro bollette anche parte di quell'acqua che i furbetti del contatore utilizzano a costo zero.